benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo è lunedì 8 maggio del 2017 ci siamo svegliati con il nuovo presidente della repubblica francese il massone macron che come avete visto ha voluto perfettamente spiegare il suo essere massonico con una cerimonia mai vista di discorso alla nazione con inquadratura di lui iscritto in una piramide la piramide del Louvre insomma anche con la simbologia classica dei massoni come ho detto non è l'ho spiegato già ieri sera l'ho spiegato stamattina a radio 24 lo rispiegherò alle 10 a radio Cusano non è una buona notizia per l'italia lo spiego non vuol dire che avrei votato la leperna il 12 per cento dei francesi sono andati alle urne per votare scheda bianca dunque non ritrovandosi né nella posizione estrema della leperna né nella posizione di macron quello che è un fatto è che la il massone macron è oggi presidente con poteri importantissimi della repubblica francese e questo rappresenta un guaio per l'italia il solo fatto io da ieri stia osservando questa evidenza rispetto a persone che evidentemente non sanno leggere la politica estera sta causando una polemica infinita di cui discuteremo tra poco dopo aver letto la buona notizia del giorno il vangelo di oggi saluto milena brindisi trabona carla stefanini francesca centofanti mea di rossi rossana rosanna grossi vladimiro campello alessandra mondelli vengo da un tour molto bello di questi giorni tra la dispoli alla scuola di teologia padova con le iniziative del popolo famiglia per le amministrative stasera abbiamo il coordinamento romano del popolo famiglia via dell'ambara dam meri rossi mi conferma che a padova c'è grande fermento abbiamo conquistato addirittura spazio con foto sul mattino di padova che è il giornale proprio rosso rosso il giornale più importante di padova incredibilmente il popolo famiglia riuscirà addirittura a ottenere attenzione con fotografia da parte del mattino di padova devo dire che i giornali cominciano a darci molta attenzione nonostante il linciaggio mediatico che dice milena brindisi trabona che sto subendo ma quello è anche un modo per aprirsi gli spazi mediaticamente è anche una tecnica cara milena che va utilizzata appunto per essere poi ascoltato stamattina radio 24 per andare tra poco a radio cusano e per avere spazi per il popolo della famiglia su tutti i giornali locali ecco mirco de carli candidato sindaco a riolo ieri citato con grandi articoli sul resto del carlino altro importante giornale oltre che sul corriere di romagna saluto francesca donzelli saluto mauro rotunno vittoria titone andrea cavenaghi giovanni fiori graziella fontana e allora ricorda tutti i romani ne vedo molti fiori lo dà centofanti rotunno che stasera a minera brindisi trabona che stasera c'è il coordinamento romano a via dell'ambaradam che è un po più è un'altra sede rispetto al luogo dove ci troviamo di solito quindi sentite nicola di matteo per l'indirizzo preciso coordinamento romano domani manola bartolini mi è dispiaciuta per non essere riuscito a salutarmi l'altro giorno alla dispoli era la rompiscatole in fondo con quattro bambini non la rompiscatole ho visto i passeggini ero molto felice di avere una famiglia con tutti quei passeggini lì presenti quindi un abbraccio te lo do adesso molto volentieri visto che alla dispoli non ci siamo riusciti c'era tanta gente e ringrazio davvero la scuola di teologia della diocesi che mi ha ospitato per l'iniziativa con don roberto molti sacerdoti che continuano a sostenerci e grazie a tutti i sacerdoti che ci sostengono saluto nicola boldini marco pennetti federico d'angeli ecco elena bentini la carissima elena c'è angelica bosio che mi chiede radio cusano su che frequenza trasmette sinceramente non lo so però cercate su internet radio cusano campus e uscirà fuori sia la diciamo frequenza internetiana dove potete sentire dalle 10.10 la mia intervista che credo la frequenza in onde medie saluto sabino sabini del gruppo preghiera popolo della famiglia alex zino dice è stato già detto finora viva il popolo della famiglia roberto leone non apprezza le mie sparate su macron la moglie o sul preservativo e vabbè adesso troppa carne al fuoco ma se vuoi parliamo di tutto oggi parliamo di molte cose saluto marco rapetti arrigoni che dice giustamente pdf unica alternativa anche in francia forse serviva un popolo della famiglia saluto paola porreca melania simoni cinzia gioia che è contenta che graziella fontana stia seguendo continuando a seguire stampa evangelo per farla seguire a più persone possibili un mi piace e un condividi alla diretta è arrivato anche don francesco morcavallo fatemi dire un grazie particolare tantissimi sacerdoti ho avuto anche una telefonata di un vescovo proprio 24 ore fa che sostiene e ha detto con chiarezza che vuole sostenere la nostra battaglia e allora metteremo forse insieme in un convegno vescovi sacerdoti religiosi e religiose che si sentono vicine vicini alla battaglia del popolo della famiglia sarà una bella occasione proprio per questo con gianluca valpondi che dice sia notato gesù cristo andiamo a leggere anche don massimo lapponi che ci ricorda che in quest'ora tutto il mondo si recita la supplica la madonna di pompei andiamo a leggere il vangelo di oggi che è il vangelo di giovanni e il vangelo del buon pastore bellissima pagina capitolo 10 versetti sono dalla 11 al 18 in quel tempo disse gesù io sono il buon pastore il buon pastore offre la vita per le pecore il mercenario invece che non è pastore al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde egli è un mercenario e non gli importa delle pecore io sono il buon pastore conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me come il padre conosce me e io conosco il padre offro la vita per le pecore e ho altre pecore che non sono di questo vile anche queste io devo condurre asculteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore per questo il padre mi ama perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo nessuno me la toglie ma la offro da me stesso poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo questo comando ho ricevuto dal padre mio è parola del signore è bellissima una pagina straordinaria del vangelo di giovanni questa è il buon pastore ricordate cristo mette sempre a paragone cristo è pietra di paragone per la nostra esistenza e anche questa pagina non è una pagina generica di bontà c'è il buon pastore e c'è il mercenario cioè colui che non è interessato alle pecore è interessato solo a sé alla propria mercede è un mercenario da un massimo lappone in questo momento che è un buon pastore un buon sacerdote si collega dallo srilanka per sentire stampa evangelo per questa puntata così si è collegato don francesco sono collegati tanti sacerdoti che sono davvero buoni pastori e poi ci sono i mercenari come dice leonardo testefano come tanti politicanti pseudo cattolici che di fronte al lupo sono scappati lasciando le pecore sole ci pensavo proprio leonardo leggendo ieri quella pagina di repubblica un po surreale in cui il ministro della famiglia il cattolico costa quello con cui siamo messi sotto braccio due ore prima del family day del circo massimo non solo difendeva la legge cirinna sull'intervista di ieri su repubblica ma quasi apriva l'utero in affitto e questi sono mercenari non politici cattolici mercenari d'accordo allora deve essere chiaro che il pdf che per esempio a savigliano sta raccogliendo le firme per candidare i nostri esponenti al comune di savigliano con il candidato sindaco lo facciamo perché il resto della politica proprio nel territorio di enrico costa peraltro nel pio monte del ministro della famiglia attuale ministro della famiglia che si è preso la poltrona di ministro della famiglia un giorno prima del family day per poi vendersi il voto di fiducia 20 giorni dopo questi sono i mercenari di cui parla la parola di dio di oggi ricordatelo c'è il buon pastore è arrivato anche don filippo cotroneo saluto anche lui e ci sono i mercenari allora il popolo la famiglia nasce per indicare una strada degna della nostra testimonianza della verità della nostra essere sequela del buon pastore e per additare i mercenari che si sono venduti i principi non negoziabili aprendoci un negozio e vendendoseli per 15 denari neanche per 30 allora questo deve essere chiaro ieri pagina di repubblica di ieri ricordate pagina intera di cui parleremo tra poco perché un'altra pagina di vergogna del giornalismo italico intervista al ministro cattolico della famiglia erico costa eletto con il centrodestra lo ricordo eletto con il centrodestra ebbene questo non solo difende la legge cirinna ma addirittura non riesce a dire una parola contro l'utero in affitto che è ovviamente conseguenza inevitabile della legge cirinna ricordiamo che noi non ci siamo battuti contro gli omosessuali noi siamo battuti per un diritto di famiglia che rispetti la persona umana e non conduca la costruzione di famiglia inevitabilmente attraverso la transazione commerciale dell'affitto dell'utero dell'acquisto del bambino perché questo è intollerabile questo è intollerabile allora se un ministro della famiglia cattolico va addirittura su repubblica a difendere quella legge addirittura neanche riesce a dire una parola contro l'utero in affitto siamo davvero in una dimensione lontanissima anche maria bellino c'ha il santo rosario da pompei chi ha ovviamente è impegnato con rosario sono la donna di pompei ovviamente ubi mayor mario cessata come si dice non francesco morcavallo sacerdote ci sono venduti per un piatto di lenticchie marco rapetti arriconi ricorda il papà di costa il ministro era raffaele persona seria con grande consenso in piemonte ora il figlio di enrico è appena all'uno per cento nella sua regione ecco elisabetta montanelli che ma fino ad ora che alternativa abbiamo avuto elisabetta però l'elemento importante che ora l'alternativa c'è ora l'alternativa c'è ora in piemonte invece di votare enrico costa si può votare a savigliano ad alessandria a grugliasco a borgo manero si può votare popolo della famiglia e quando il ministro costa vedrà che su quei territori si vota popolo della famiglia e non si vota l'alternativa popolare di alfano e costa i traditori della legge cirinale vedrete che qualcosa verrà compreso è fondamentale che a queste amministrative nei tantissimi centri dove siamo impegnati da verona con filippo gregolini a padova col sindaco sposato a conigliano con lorenzo damiano a grugliasco con lucianella presta a alessandria con il sindaco locci e a crema con luca grossi a monza con manuela ponti e a ischi a bacoli a riolo terme con mirco de carli a parma a riccione dovunque ci sia il simbolo il popolo della famiglia ad avola con il nostro amico corrado salonia che si è molto impegnato in sicilia andiamo a far vincere il popolo della famiglia perché questo cambierà tutto quando enrico costa vedrà che l'intervista infame che andato che ha dato a repubblica gli costa voti perché per esempio a savigliano voteranno maurizio schininà sindaco del popolo della famiglia cambierà completamente l'equilibrio politico ovviamente con il 3 per cento alex zino chiede non saremo incisivi saremo determinanti al fan non c'è neanche il 2 ed è determinante ed ha il ministro della famiglia io l'ho detto e lo ripeto noi porteremo ministro della famiglia gianfranco amato sarà una garanzia o no un po più di enrico costa nel prossimo governo e saremo determinanti perché quel 3 per cento che porteremo in parlamento con 40 parlamentari fra camera e senato sarà determinante per le aggregazioni che vorranno fermarsi di governo nella prossima legislatura questo è quello che dobbiamo fare non abbiamo alternativa a questo dobbiamo raccogliere consensi e quei consensi saranno determinanti la strada verso il 3 per cento l'1,07 lo abbiamo preso alle amministrative del 2016 alle amministrative del 2017 raddoppieremo questi livelli di consenso saremo presenti in più comuni avremo toccato 17 regioni con la sperimentazione dei nostri gruppi organizzati sul territorio per raccogliere consensi e fare dinamica elettorale speriamo di essere intorno al 2,5 qualcuno ci da attorno al 3 se già siamo attorno al 3 per cento dire che siamo al ridosso del traguardo da raggiungere ricordiamo che abbiamo già superato il 3 per cento in alcuni comuni dove ci siamo presentati a corde nonce abbiamo preso il 3,3 per cento governiamo abbiamo il vice sindaco abbiamo un consigliere comunale eletto dunque noi stiamo incidendo nella realtà incidendo significativamente nella realtà ora si tratta di dare sostegno a progetti che dicono le cose chiare per esempio dicono con chiarezza che macron eletto presidente della repubblica francese è un pericolo per l'italia perché è un massone perché è un massone perché è il figlio politico di giacattali andate a vedere chi è giacattali oltre a essere un massone conclamato le sue teorie sul poliamore e sull'eutanasia generalizzata per gli over 65 improduttivi andate a leggere le parole dette esplicitamente da Attali e soprattutto le parole sull'italia che viene considerata una terra da spogliare secondo Attali per via del suo enorme debito pubblico e la prima telefonata che ha ricevuto macron ieri è di angela merkel io ho scritto una battuta la francia ha eletto il primo presidente donna fatto questo tweet è successo l'ira di dio era una battuta che ha fatto marine le penne durante il dibattito della campagna elettorale non era neanche tanto originale perché non era mia perché marine le penne ha detto la francia avrà comunque un presidente donna o eleggeranno me o eleggeranno la merkel è la prima telefonata per una costruzione di un asse franco tedesco che punirà all'italia è stata lunga e con angela merkel e questo è il tema che bisogna porre massone figlio politico di Attali l'iconografia pazzesca di lui davanti alla piramide iscritto dentro la piramide affinché la simbologia massonica fosse evidentissima non l'ha mai nascosto macron faceva le conferenze al grand oriente di francia quando era ministro dell'economia neanche un anno fa quindi non sto svelando facendo il complottista è una cosa che è proprio ovvia e evidente donaldo stefano cita un'intervista uno psicologo su macron che lo definisce pericoloso psicopatico io francamente non ho non ho serenità rispetto a questo presidente della repubblica francese l'ho scritto l'ho detto lo ripeterò l'ho detto stamattina radio 24 lo ripeterò a radio cusano dopo le 10 questa è la posizione del popolo della famiglia un presidente della pubblica francese massone non ci piace non ci piace è una cosa molto semplice lo diciamo con chiarezza e siccome siamo italiani vogliamo difendere la maglia azzurra la maglia azzurra quella degli italiani che abbiamo sono calcisticamente difeso con onore ma dobbiamo imparare a difenderla con la gloria e con la battaglia politica l'azzurro il blu del popolo della famiglia questo è il nostro colore oggi sono con il nostro colore addosso allora noi per difendere tutto questo ci batteremo con grande nettezza ho parlato ho accennato a questa intervista di enrico costa di ieri su repubblica incredibili il ministro della famiglia alfaniano che difende la legge circinna ricordo che due ore prima del family day era sotto braccio al mio amico massimo candolfini per fare il sostenitore delle ragioni del family day poi all'intervista di ieri su repubblica dice ma io dal family day non ci sono neanche andato difende la legge circinna e non riesce a dire una parola neanche contro l'utero in affitto e allora nel piemonte in particolare nel piemonte di enrico costa vi prego a savigliano a grugliasco con lucianella presta ad alessandria colloccia borgo manero con alberto cerutti votate popolo della famiglia facciamo vedere al ministro costa sul suo territorio cosa significa fare questo tipo di affermazioni si vota per il popolo della famiglia si vota per il popolo della famiglia su tutti i territori ovviamente ma in particolare nei comuni piemontesi dove ci siamo presentati è l'unica alternativa seria dobbiamo immediatamente far sentire il nostro peso su quel territorio per spiegare al ministro della famiglia che certe cose si pagano in termini di consenso elettorale che è l'unica cosa che capiscono ricordatevi solo i rapporti di forza capiscono in politica e la prova ce l'abbiamo con la piccola lobby lgbt che è riuscita in 24 ore a far cambiare materialmente gli articoli di repubblica repubblica si è riuscita ieri con questo articolo sul flop della legge sull'unione civile che è un flop oggettivo hanno fatto 2800 unioni civili dopo averci fatto la testa così dicevano che facevano 10.000 ne hanno fatte il 75% di meno dimostrano che la popolazione interessata a questa cosa è a dir poco esigua ci spiegano che i diritti vanno fatti anche per pochissime persone ma quelli non sono diritti sono desideri che una lobby ha trasformato in diritti mettendo a rischio seriamente il diritto di famiglia in questo paese violando la costituzione pretendendo che sia famiglia quello che famiglia per la costituzione non è e allora la battaglia si fa con chiarezza perché repubblica repubblica ha scritto che era un flop come ovvio perché è un flop i 2800 non sono neanche 2800 dice bene paolo pasanisi zingarello per questi dati andranno tutti verificati vogliono spiegarci che a Roma sono stati 331 gli unioni civili intanto quanti sono unioni civili omosessuali e quanti i contratti di convivenza eterosessuale repubblica non lo dice e in più quei dati comprendono le prenotazioni non quelle eseguite perché sennò ci devono spiegare che dal 18 settembre primo giorno in cui si è fatta un'unione civile a Roma sono fatte tutti i giorni due unioni civili omosessuali a Roma tutti i santi giorni che Dio ha mandato in terra signori di che stiamo parlando allora vi chiedo un mi piace un condividi a questa diretta perché i 2800 non sono 2800 tranquilli ma anche fossero 2800 diciamo che siano 2800 prendo i dati di romani il presidente dell'arcichei perché repubblica cosa ha fatto dopo che è scritto che è un flop ha avuto l'attacco della lobby lgbt che ha detto come avete scritto che è un flop non dovete scrivere che è un flop repubblica sono da 24 ore sta cercando di correggere il tiro e ha intervistato quattro esponenti della lobby lgbt quella delle famiglie arcobaleno che si chiama grassa donia quella dell'arcichei che si chiama romani scalfarotto e grillini e ha dovuto far scrivere maria novella de luca che ha detto no ma non è un flop repubblica è sempre stata schierata con le unioni civili allora è sicuramente un flop e l'ha dato ce lo spiega bene flavio romani che dice il 3 per cento della popolazione italiana è omosessuale quindi un milione 800 mila persone se su un milione 800 mila persone fate 2800 unioni civili dopo che per anni ci avete fatto una testa così e voi stessi dichiaravate che ne facevate 10 mila invece ne avete fatte 75 per cento in meno vuol dire questa legge non interessava neanche a voi neanche al vostro popolo cara lobby lgbt e interessava solo a voi pochi che tramite questa legge avete ottenuto denari consensi e potere ma al popolo non gliene frega nulla e la dimostrazione che su un milione 800 mila gay e lesbiche italiane che voi dichiarate esserci hanno utilizzato questa cosa in 2800 è più dimostrato di così a noi interessa il matrimonio si interessa molto e infatti su 60 milioni di cittadini italiani 29 milioni 168 mila sono uniti in matrimonio 15 milioni di figli vivono dentro la famiglia derivante dal matrimonio e 5 milioni sono i vedoi e quindi ci interessa il matrimonio e su 60 milioni 50 milioni sono dentro la dimensione familiare matrimoniale la capite la differenza voi siete 2008 su un milione 800 mila che dichiarate di essere l'istituto matrimoniale riguarda 50 milioni su 60 milioni di italiani la famiglia è questa e non a caso la costituzione la sancisce come società naturale fondata sul matrimonio il resto è una lobby il resto è solo un gioco di lobby per drenare denari pubblici e farci una testa così con i corsi gender con i corsi antibullismo per arrivare nelle scuole per arricchirsi con i fondi del lunar è solo una questione di denari non di popolo è solo una questione di denari e di desideri non di diritti non è che ogni desiderio si debba trasformare automaticamente in diritto i desideri sono desideri i diritti sono diritti sono cose differenti allora questi temi vanno detti con chiarezza esplicita chi li dice il ministro della famiglia no il ministro della famiglia dice che la legge è bellissima anzi dice neanche una parola il cattolico eletto col centrodestra Enrico Costa lo ricordo sempre il cattolico eletto col centrodestra Enrico Costa i cattolici eletti col centrodestra sono stati determinanti per l'approvazione della legge Cirinna queste argomentazioni che avete sentito oggi sul matrimonio e difesa dell'istituto matrimoniale e lobby LGBT le sentite dire da qualcun altro se non dal popolo della famiglia nel panorama politico e allora se credete che queste cose che diciamo siano sensate potete solo sostenere il popolo della famiglia come dice da un Filippo Codroneo sono soltanto capricci tramutati in diritti e non ci fa piacere vedere Renzi che ci rincorre adesso usa la parola mamma come tema centrale della sua segreteria così come ci ha copiato il bonus bebè insomma ha capito che queste tematiche sono tematiche centrali però non puoi fare insieme nello stesso discorso la difesa della legge Cirinna e la difesa della parola mamma perché la tua legge Cirinna crea i presupposti affinché dei bambini la mamma non ce la possano avere caro Matteo Renzi e questo è intollerabile quindi non puoi essere così ipocita da provare a mettere insieme la difesa della legge Cirinna e la parola mamma perché le due cose insieme non ci stanno e hai compiuto una violenza sul tessuto giuridico e sull'ordinamento di famiglia nel nostro paese proprio per negare ai bambini il diritto ad avere la mamma e questo è qualcosa per cui noi te l'abbiamo detto al Circo Massimo ci ricorderemo e ti puniremo politicamente questo è un impegno assunto dal popolo della famiglia che si batte in tutta Italia sì per la mamma per la mamma per davvero per il reddito di maternità non per l'elemosina nel bonus bebè il bonus bebè si deve agganciare a un concetto di reddito di maternità allora sì che diventa produttivo e sensato allora non è un elemosina allora diventa un intervento strutturale noi chiediamo il voto su una piattaforma programmatica che dice sia la famiglia sia la vita proclama il diritto universale a nascere è profondamente antimassonica è profondamente contro i falsi miti di progresso chiede la tutela della famiglia naturale secondo l'articolo 29 della costituzione chiede il reddito di maternità chiede di porre attenzione al diritto alla vita chiede di negare il diritto all'aborto che aborto non è chi è che diritto non è e chiede di sostenere i più deboli a partire dagli ammalati e dagli anziani questo è il popolo della famiglia e questa è la nostra impostazione programmatica su questo noi chiediamo i consensi al popolo italiano a queste amministrative l'11 giugno in questi giorni dal 7 all'11 maggio stiamo raccogliendo le ultime firme su tutto il territorio italiano per far pesare le nostre liste nella competizione elettorale ovunque vi troviate Padova Verona Conegliano Riolo Parma Riccione Comacchio Monza Crema Goito Desio Savigliano Asti Grugliasco Borgomanero Genova Davvero non ho perso il conto Avola, Ischia, Bacoli, Melito allora cerchiamo con tutto questo lavoro di far sì che l'alternativa rappresentata sul territorio nazionale dal popolo della famiglia diventi qualcosa di concreto e visibile in termini di consenso elettorale anche di visibile in termini di comunicazione utilizziamo questa occasione che abbiamo per fare tanta comunicazione Gianfranco Amata ha riempito il teatro a Milano stiamo facendo dei lavori davvero straordinari a Ventotene non riesco purtroppo a candidarmi perché l'impegno ho capito che avendo tutti questi comuni da seguire sto andando in giro per l'Italia e ho penso alla mia campagna elettorale personale ho penso a tutti gli amici che mi chiamano in giro per l'Italia le due cose insieme non si possono fare e ho preferito essere presente sul territorio per dare una mano a tutti perché ho capito che la mia responsabilità oggi è stare a fianco agli amici impegnati sul territorio e dunque personalmente non potrò candidarmi altrimenti mi dovevo spostare su un'isola e essere fermo su quell'isola e avrebbe azzoppato la campagna del popolo della famiglia su tutto il territorio nazionale e dunque sacrifico me stesso per fare battaglia politica sul territorio con tutti gli amici andando a seguire tutte le realtà anche perché dobbiamo preparare a Roma peraltro si voterà per le amministrative perché ci sono due municipi il decimo e l'ottavo che vanno al voto ad ottobre quindi dobbiamo preparare anche quell'appuntamento elettorale e poi potremmo avere la sorpresa di elezioni politiche secondo me il 19 novembre, segnatevi questa data in rosso sul calendario il 19 novembre potrebbe essere la data in cui dobbiamo trovarci per fare la battaglia politica decisiva per le elezioni per il Parlamento quindi le ragioni che oggi abbiamo esposto fatelo ascoltare a più gente possibile un mi piace, un condividi alla diretta vi chiedo per far sì che le parole del popolo della famiglia arrivino davvero ovunque è necessario mai come in queste ore dobbiamo fare lo sforzo organizzativo più forte per raccogliere le firme ovunque e fare tutto con la nostra consueta precisione ricordiamo che anche i grandi partiti hanno fatto errori nella presentazione della consegna delle documentazioni noi mai, noi abbiamo fatto cose sempre con la massima precisione dunque questi giorni sono ovviamente giorni di stress fortissimo abbiamo quattro giorni per completare la documentazione e presentare tutto alle sedi comunali e quindi il lavoro da svolgere è questo chiediamo l'intercessione di San Barnaba grande evangelizzatore che si festeggia l'11 giugno l'11 giugno si vota saluto Monica consigliere Luisa dice col reddito di maternità finalmente anche le donne disoccupate con mariti disoccupati potranno sfamare e crescere i propri figli in tutta serenità esattamente Luisa saluto Marinella Silvio Gallo che dà ragione a Marco Repetti Aticoni sulla mia decisione su Ventotene saluto Silvia Lodà che ricorda la nostra precisione e trasparenza nel fare la documentazione per presentarci alle elezioni Domenico Gallo dice ci saranno da raccogliere firme per le politiche eh sì, ci saranno da raccogliere tante 150.000 su tutto il territorio nazionale però per fortuna ci siamo allenati in queste amministrative e in amministrative precedenti a fare il lavoro necessario per poter presentare le liste saluto Gian Piero Bonfanti siamo tecnicamente ormai attrezzati con i nuclei su tutte le regioni su tutto il territorio nazionale per far sì che insomma lo strumento ehm arrivi forte e chiaro Alessandro Cocco mi comunica che oggi nascerà il PDF a Monfalcone ho visto degli accenni anche sulla stampa locale bravo Alessandro molto importante far nascere il PDF il popolo e la famiglia in tutti i comuni Andrea Fradini si impegna a fare proselitismo saluto Ester Corona eh Moreno Lovat dice sei molto persuasivo Mario perché non ti vediamo a porta a porta perché sono molto persuasivo esattamente la motivazione è quella se ci mandassero a porta a porta almeno una sera al mese praticamente noi avremmo il 10% dell'elettorato in mano questo non ce lo consentiranno mai quindi la nostra fatica è dover fare questo lavoro tutti i giorni con tutti gli strumenti possibili giornali locali spazi sui social network qualche spazio mediatico lo ripeto ho ehm parlato oggi a Radio 24 alle 10 parlerò a Radio Cusano insomma ci prendiamo gli spazi che possiamo prenderci saluto Vittorio Pestillo che ci scrive da Monaco saluto Melania Simoni Giuseppe Pecoraro ci siete coscienti che vi state scontrando contro il colosso Rothschild siamo coscienti sì è proprio perché siamo coscienti che dobbiamo farlo saluto Sara Deodati e il suo marito Giuseppe Brienza importantissimo al corso di formazione che è stato avviato la settimana scorsa a Roma saluto Stefano Gardini che ci annuncia per oggi un appuntamento a San Giovanni Battista a Ravenna saluto Paolo Ruotolo il porta a porta facciamolo noi saluto Marisa Veduto saluto Marco Graziola Giancarla Zeni Francesco Polico Giovanni Mazzotta vi ringrazio tutti davvero vi chiedo un mi piace un condivido alla diretta di oggi abbiamo detto le cose importanti su Macron abbiamo detto le cose importanti sul bilancio sulla legge sull'Unione Civili su Enrico Costa ministro della famiglia sui meccanismi giornalistici dell'influenza dell'hobby LGBT che ha costretto Repubblica a scusarsi da due giorni a cambiare addirittura i titoli perché avevano parlato di un flop evidente della legge sull'Unione Civili saluto Alex Zino saluto Graziano Dell'Ellis grazie a Graziella Fontana che dice mi piace perché sei impeccabile nel linguaggio qualche volta scappa la frizione pure a me e mi perdonerete saluto Vittoria Polacci saluto Silvana Scuccia e tutti coloro che fanno mi piace e condividi a questa diretta che oggi si festeggia sotto le insegne di San Michele come ci informa Sabino Sabini da festeggiare soprattutto in questo giorno in cui la massoneria festeggia Macron saluto Federico Pieroni che alle 12 ci ricorderà nella messa saluto Alessandra Mondelli che fa il buon compleanno Alberto Agus del popolo della famiglia Sardo saluto Rosa Eleonora degli esposti saluto Gloria Callarelli impegnata in particolare a Conegliano a sostenere la candidatura sindaco di Lorenzo Damiano saluto Antonella Bagno Paolo Desolati Roberto Gramaccia vi chiedo un mi piace un condividi a questa diretta noi ci ritroviamo domani sempre qui a Stampevangelo ricordo agli amici del coordinamento cittadino di Roma ormai composto da oltre 60 dirigenti che è qualcosa di importante su un territorio come quello romano che oggi alle 20 e 30 mi pare ma confrontatevi con Nicola Di Matteo il nostro coordinatore c'è la riunione del coordinamento romano che è una riunione sempre piuttosto importante saluto Massimiliano Esposito Michela Rendina sì Massimiliano dice sono 15 minuti che saluti è vero qualche volta mi rimproverano anche per questa storia dei saluti però io ci tengo molto a dare un abbraccio anche personale a ciascuno di voi perché davvero per ogni singolo che si impegna per ogni persona che si impegna nasce qualcosa di fondamentale per il popolo della famiglia mi confermano sia Silvia Lotà che Sara Deodati che è alle 20 e 30 l'appuntamento con il coordinamento romano di oggi saluto anche Bartolomeo Notarangelo Cinzia Gioia Paolo Desolati e tutti gli amici che hanno fatto un mi piace un condividi alla diretta di oggi Don Francesco Morcavallo ci ricorda che l'anniversario dell'apparizione di San Michele a Monte Sant'Angelo saluto anche Stefano Sigali Susanne Demetz che a mezzogiorno c'è la supplica alla Madonna di Pompei che aveva ricordato anche Federico Pieroni davvero una Madonna a cui sono molto legato a mio papà a cui sapete che ho perso un anno fa mi portò da bambino e ammalato al santuario della Madonna di Pompei dove un vescovo disse mi raccontò mio padre ero piccolino mi benedisse io guarì ora non è un miracolo ma è qualcosa che nella mia famiglia è stato sempre molto sentito voi sapete la mia famiglia ha origini salernitane quindi la Madonna di Pompei è un'immagine che tra l'altro io porto con me questo lo sanno in pochi in ogni viaggio c'è una medaglia della Madonna di Pompei d'oro che è stata sul corpo di mio padre per 73 anni e che adesso viaggia sempre con me davvero la Madonna ci protegga la Madonna di Pompei in particolare un abbraccio a Barbara Putignani Anna Russo Simone Ciarmela che mi chiede hai fatto colazione ti vedo sciupato no oggi ho dato due baci a mia moglie poi mia moglie mi ha promesso che mi porta la colazione spero che mantenga la promessa questa è la verità Simone che magari volevi sfottere ma io oggi ho solo sorrisi ho solo sorrisi nonostante la rabbia che provo per la massoneria che vince in Francia per gli impicci della lobby LGBT sul giornalismo italiano per la loro capacità di modificare addirittura i titoli di Repubblica che si sente in colpa e si inginocchia davanti alle pressioni della lobby LGBT e fa addirittura quattro interviste a esponenti della stessa lobby magari qualche volta vorrebbe ascoltare il popolo e la famiglia per avere una no un'informazione diversa un'opinione diversa un punto di vista diverso sempre lo stesso punto di vista sempre identico e così è saluto anche Beatrice Nazarena Novelli siete davvero tanti oggi credo abbiamo fatto numeri importanti fatemi dire ecco che Stampe Vangelo in questi giorni sto facendo davvero ascolti pazzeschi come è tutto popolo della famiglia TV entro il mese di maggio dovremmo arrivare a 2 milioni di visualizzazioni per popolo della famiglia TV davvero un numero straordinario con un piccolo mezzo come avete visto che ha cominciato a trasmettere ufficialmente a fine settembre noi abbiamo fatto in pochissimi mesi neanche 9 mesi 2 milioni di visualizzazioni tanta roba come si dice in gergo e grazie davvero perché ciò accadrà entro la fine del mese di maggio che poi il mese Mariano e dunque davvero forse lo sguardo della protezione della Vergine Maria che io ho sempre alle spalle come vedete quando faccio Stampe Vangelo si sta posando in maniera benevola sulla nostra attività d'altronde il popolo della famiglia è consegrato al cuore immacolato di Maria lo ricordiamo sempre con una cerimonia che abbiamo svolto in Santa Maria Maggiore grazie anche a Irene Stagliano a Consuelo Nespoli a tutti gli amici da Maria Rinolfi una buona giornata e ad anche Silvia Lucchetti a cui ricordo stasera l'appuntamento con il coordinamento romano del popolo della famiglia ore 20 e 30 via dell'Ambaradam saluto Eugenia Giovinazzi un abbraccio a tutti voi ci ritroviamo con Stampe Vangelo domani alle ore 8 e 30 o 8 e qualcosa insomma vediamo Silvia Lucchetti arriverà in ritardo perché oggi alle 19 e 30 va in onda la sua trasmissione con Mauro Rotunno quindi anche molto divertente di verità oltre che molto canina quindi seguite prima la trasmissione di Silvia Lucchetti 19 e 30 credo o 19 non mi ricordo proprio preciso su PDF TV e poi si va a tutti al coordinamento romano se ci sono i romani Federico Caruso dice sei un grande io sono solo grosso caro Federico saluto Silvana Scuccia che dice fortuna che ci sei finché Dio vuole e l'appuntamento come informa il coordinamento editoriale diretto da Francesca Centofanti oggi la trasmissione Silvia Lucchetti e Mauro Rotunno va in onda alle 19 alle 19 non perdetevela perché è davvero un gran bell'appuntamento ho partecipato anch'io all'ultima puntata da spettatore e ho trovato la puntata davvero molto gradevole grazie a Cinza Gioia che adesso ci ha messo la faccia ed è qui a nome di tutta la sua famiglia specialmente di suo marito che inizialmente era molto incerto sulle reali potenzialità del popolo della famiglia siamo lieti di aver convinto sia te che tuo marito mettete anche il simbolo del popolo della famiglia che è importante che sia conosciuto fatemi salutare anche Claudia Brignoli Monica Consigliere ci dice sono molto devota alla Vergine Maria spero vi protegga speriamo davvero di essere protetti dallo sguardo benevolo di Maria Vergine con un abbraccio a tutti voi una supplica alla Madonna di Pompei oggi a mezzogiorno che verrà rivolta da molte persone del popolo della famiglia ricordando che il popolo della famiglia è consacrato al cuore immacolato di Maria vi abbraccio dando appuntamento tra tutte le altre trasmissioni alle 19 con c'è un post per te la trasmissione condotta da Silvia Lucchetti e Mauro Rotunno qui su Popolo della Famiglia TV dopo quando avete finito la trasmissione di corsa Silvia Lucchetti e Mauro Rotunno vi aspetto al coordinamento romano via dell'Ambaradam oggi in sede di staccata rispetto alla nostra consueta località di ritrovo un abbraccio a tutti ci ritroviamo domani come dice sempre Raffaella Zanchini uniti assolutamente uniti uniti nella battaglia per il popolo della famiglia su tutto il territorio nazionale 4 giorni per presentare le liste 1 mese di campagna elettorale voti da raccogliere l'11 giugno affinché i ministri venduti come Enrico Costa che si dicono cattolici se facevano la leggere col centodestra con una piattaforma mai le unioni gay vedano che il loro comportamento comporta un prezzo serio da pagare in termini di consenso politico e dunque di rapporto di forza al tavolo su cui si decidono le norme e le cose importanti del nostro paese a quel tavolo arriverà il popolo e la famiglia a garantire i principi non negoziabili con serietà e in maniera assolutamente imperforabile usiamo questa espressione saremo imperforabili a qualsiasi tentazione del potere dei cattolici all'acqua di rosa come vengono definiti da Silvia Lodano da Maria Rinolfi un abbraccio a tutti voi ci vediamo domani con Stampe e Vangelo grazie